Attraverso lo strumento della comunicazione non verbale possiamo fare un sacco di cose come per esempio dissolvere delle incomprensioni oppure dissolvere anche delle situazioni di tensione dovute ad una serie di misunderstanding ma che poi con la comunicazione non verbale possiamo assolutamente andare a scaricare, andare ad appianare. D'altra parte il nostro interlocutore capirà che noi ci troviamo in una situazione di difficoltà cioè che non lo stiamo capendo perché utilizzando il nostro corpo anche come strumento di comunicazione le nostre espressioni facciali, la nostra mimica, la nostra gestualità così come la modulazione della nostra voce quindi il ritmo e la velocità ecco che dall'altra parte la persona con cui stiamo parlando capisce che siamo in difficoltà e umanamente attiverà un meccanismo di aiuto nei nostri confronti quindi questo è quello che accade nel momento in cui in maniera molto trasparente facciamo capire quello che stiamo anche vivendo nel corso della comunicazione e se stiamo incontrando delle difficoltà.